Buongiorno a tutti per questo nostro incontro, buon pomeriggio, secondo di questa edizione. Purtroppo oggi stiamo avendo un po' di problemi con il collegamento della nostra relatrice, cioè della professoressa Cristiana De Santis, che per via di un importunio non è potuta venire in presenza a Venezia e quindi appunto si collegherà da casa. Allora approfitto di questo ritardo, che spero si risolva velocemente, per presentarvi l'ospite di oggi, che sicuramente è un nome che molti di voi avranno già sentito. Si tratta infatti di una delle studiose più competenti e più attive nel campo della didattica dell'italiano. Cristiana De Santis è infatti professoressa ordinaria di linguistica italiana e insegna didattica dell'italiano e linguistica italiana presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di Bologna. Si è laureata in storia della lingua italiana con Maria Luisa Alpi e Biagi e poi ha proseguito gli studi dottorali sotto la guida di Michele Prandi e si è perfezionata in Francia alla scuola di Gaston Gros. E con Prandi e Gros ha pubblicato la sua prima fotografia, che era dedicata all'espressione dell'analità in italiano, a parte di sui miliardi. La collaborazione con Prandi è poi proseguita per la realizzazione di fortunati manuali e grammatiche, anche perché, diciamo, fortemente innovativi rispetto alla scena, diciamo al panorama delle grammatiche disponibili quando appunto sono usciti. Ricordo il Manuale di Linguistica e Grammatica Italiana per UTET, e una grammatica italiana essenziale e ragionata UTET appunto 2019. ha poi collaborato con Francesco Sabatini e qui sono sicuro che il nome di Sabatini, in quanto ex presidente, presidente onorario dell'Accademia della Crusca e nonché, diciamo, principale diffusore della grammatica valenziale nelle scuole italiane, sia noto a tutti voi, ebbene De Santis ha lavorato con Sabatini sia nella redazione di grammatiche scolastiche ispirate appunto al modello valenziale e vi segnalo poi un libro uscito proprio di recente per il Molino intitolato Un Italiano Accogliente che è un libro intervista in cui appunto De Santis intervista Francesco Sabatini. Diciamo, il focus principale dei suoi studi è stato direttore alla sintassi dell'italiano, ha pubblicato numerosi articoli scientifici su questo tema e anche il volume e la sintassi della frase semplice sempre per il volumulino nel 2022. Per quel che riguarda la didattica dell'italiano si è dedicata al tema dell'insegnamento grammaticale, a quello del curriculum verticale, ecco, nel frattempo la saluto, ammite la sto presentando, all'editazione alla lettura, alla scrittura collettiva e ha pubblicato interventi sulla lingua della politica e sulla questione lingua e genere collaborando anche alla redazione delle linee guida di Ateneo per la visibilità del genere nella comunicazione istituzionale dell'Università di Bologna. Queste sono linee guida di cui tutte le università italiane diciamo si stanno progressivamente dotando. Bologna è stata in questo, diciamo, all'avanguardia e la professoressa De Santis appunto ha dato il contributo principale. Non sto a ricordare i numerosi convegni a cui ha partecipato e le società, i centri studi, tutti i quali è socia. Può essere interessante per appunto i professori di scuola il fatto, cioè sapere che appunto la professoressa De Santis è stata il Comitato Scientifico delle Olimpiadi della Lingua Italiana e che fa parte del Comitato Scientifico di alcune riviste che sono diventate ormai di riferimento per quel che riguarda la didattica dell'italiano a scuola cioè italiano a lingua 2, italiano a scuola e lingua e testi d'oggi. Si dedica poi molto anche alla divulgazione linguistica sia con pubblicazioni dedicate e sia attraverso la partecipazione a programmi radioponici su reti nazionali e anche con la collaborazione con il portale Treccani Lingua Italiana e con il servizio di consulenza linguistica dell'Accademia della Crusca. è molto attiva in corsi di formazione per insegnanti dunque diciamo l'azione di oggi è una delle moltissime che ha già fatto appunto in corsi di formazione insegnanti nell'ambito appunto delle collaborazioni tra la Crusca e la regione toscana oppure dell'Indire Miur dell'ufficio scolastico regionale dell'Emilia Romagna e dei licei per la scuola è stata già ospite del Polo della Campania del Molise, di Pisa, scuola normale superiore e di Trieste dunque noi arriviamo buoni ultimi ma siamo molto contenti di avere la nostra ospite e quindi ringrazio molto la professoressa De Santis per aver accettato il nostro invito e le do il benvenuto e non ti sentiamo Cristiana audio ecco scusatemi voglio scusarmi moltissimo ringrazio per questa splendida presentazione e mi scuso moltissimo per gli inconvenienti tecnici e ho cercato anche fino all'ultimo di provare con il tecnico a vedere se riuscivamo a superare a distanza il problema di Zoom quindi no, non siamo riusciti e comunque ecco l'importante è esserci e adesso anche se appunto con la connessione tramite internet condivido il mio schermo e cerchiamo di avevamo già fatto una prova quindi dovrebbe funzionare allora un attimo solo allora condividiamo lo schermo condividiamo vedete lo schermo allora sì vedete lo schermo sì sì benissimo bene allora posso posso iniziare innanzitutto vi insomma vi ringrazio per l'invito e mi scuso perché c'era stato un piccolo fraintendimento ma questo appunto è il titolo che avevo dato e di questo oggi vi parlerò cioè includerò accogliere la diversità linguistica e appunto insegnare italiano nelle classi con abilità differenziate con un focus sulla riflessione linguistica perché poi è quello di cui di cui mi occupo allora cerco di andare rapidamente per recuperare un po' il tempo perduto perché c'erano delle slide di introduzione semplicemente su sulla differenza su includere e accogliere perché spesso si parla appunto di italiano inclusivo ma in un in un'accezione diversa quella appunto legata al tema della lingua e genere di cui pure come ricordava il collega mi sono occupato e in ogni caso quando ne parliamo anche di perché si parla naturalmente di inclusione anche per l'insegnamento dell'italiano ecco sarebbe bene ricollegarsi all'etimologia includere no? vuol dire chiudere dentro e quindi evoca un po' l'idea di uno di uno steccato no? come quello che vedete nell'immagine in cui all'interno del quale cerchiamo di mettere chi prima non era dentro perché perché appunto di solito noi teniamo a includere chi si scarta no? dal da uno standard poi ritorneremo su questo concetto verso il basso ma spesso nelle classi incontriamo anche invece studenti che scartano verso l'alto cioè hanno delle capacità linguistiche metalinguistiche molto sviluppate e di solito diciamo piccola premessa il processo di inclusione si basa appunto sulla categorizzazione come dicevamo sull'individuazione di uno standard e poi sulla ricerca di percorsi il più possibile diversificati che portino al raggiungimento di uno standard quindi nell'idea dello steccato c'è anche un po' l'idea del assicella o asticella come più frequentemente si dice che bisogna in qualche modo tenere dritta a volte si finisce inevitabilmente un po' per abbassarla ma in ogni caso l'impulso è quello di sollevare portare verso ma anche portare dentro e a questo appunto idea di inclusione io preferisco insomma e poi anche il titolo di un libro recente vedrete la copertina libro intervista con Francesco Salvatini accogliere accogliere vuol dire appunto cogliere no avvicinando a sé quindi evoca un po' l'idea di una appunto come qui vedete scritto di uno sguardo che riesce no vede innanzitutto vede le differenze le riconosce e in ogni caso non cerca semplicemente di annullarle di valorizzarle e anche se il movimento è comunque un movimento diciamo verso verso l'alto è un movimento che tiene sempre presente la dimensione temporale e la gradualità necessaria per appunto rimanendo all'interno della metafora fare un bel mazzo poi torneremo a vedere un'immagine di questo cogliere raccogliere per uno degli esempi su cui rifletteremo insieme a proposito appunto di riflessione accogliente sulla sulla lingua quali sono i punti no di cui è importante che sui quali è importante proprio soffermarci un attimo quando appunto parliamo di accoglienza chi è che ha più bisogno di essere accolto no quando dall'insegnante di italiano di solito si guarda naturalmente a bisogni educativi speciali e si guardano anche ai nuovi arrivati in Italia o a chi pur essendo magari nato in Italia e quindi scolarizzato almeno in parte o completamente in Italia non ha l'italiano come madrelingua allora come saprete nell'ambito il mercato editoriale si arricchisce sempre di più di materiali che sono pensati proprio per l'accessibilità spesso però come come dicevo si tratta di strumenti che tendono alla semplificazione ci sono meno materiali che invece propongono di lavorare su uno stesso testo su una stessa frase a seconda naturalmente su una stessa consegna a seconda del tipo di abilità sulla quale stiamo lavorando pensati però appunto per classi con livelli diversi di italiano che significa non solo livelli di conoscenza dell'italiano ma anche una padronanza dell'italiano appunto a più livelli e anche diversificata a seconda delle abilità possono esserci studenti che hanno un ottimo italiano parlato ma scarsa confidenza con la scrittura in ogni caso ecco al di là quello che vorrei dirvi è che al di là dell'offerta editoriale che pure cresce l'insegnante d'italiano ha sempre a che fare con situazioni molto complesse ed è difficile trovare delle attività che siano perfettamente adatte al bisogno o ai bisogni a diversi bisogni che si ritrova nella classe perciò sicuramente è importante guardare a questi strumenti e farò anche rapidamente riferimento ad alcuni in particolare appunto per la leggibilità e la comprensione ma è importante anche porsi diciamo in un'ottica più ampia e capire qual è la logica che ci permette di selezionare le attività i materiali che siano appunto più adattabili e il lavoro di adattamento spesso è un lavoro che dobbiamo possiamo dobbiamo fare noi ma che riusciamo a fare se abbiamo appunto alcune indicazioni e se ci siamo posti alcuni problemi cioè innanzitutto qual è a proposito di assicella o sticella qual è lo standard e quindi qual è il livello di italiano che vogliamo insegnare che cosa qual è la bella lingua ammesso appunto che è questo ideale puntiamo che vogliamo trasmettere che cosa che consideriamo errore una semplice deviazione da questo da questo standard o o anche qualcosa che in realtà errore è all'interno delle mura scolastiche ma non nella pratica concreta della lingua della lingua viva e poi appunto come vi dicevo sarà un po' il focus sul quale avevo pensato anche di orientare l'attività specifica come rendere più accogliente la riflessione sulla lingua perché se sulle abilità diciamo adesso vi farò vedere qualcosa ci sono comunque degli strumenti sulla riflessione della lingua si continua a lavorare prevalentemente con le pratiche tradizionali di analisi della lingua che sono basate sul riconoscimento di categorie categorie sono fondamentali sono condivise e bisogna in qualche modo padroneggiarle ma il tema è come arriviamo a riconoscere una parola come nome verbo eccetera e sempre appunto a proposito di pratiche tradizionali insieme all'analisi grammaticale e all'analisi logica che però è spesso un'analisi in colonna che quindi si limita a ritagliare le frasi in pezzettini sintagmi in una diciamo etichetta più più aggiornata ma che spesso non ci fa vedere quelle relazioni quei legami di dipendenza quelle connessioni che sono alla base proprio dei rapporti insomma sintattici che danno luogo ai significati complessi significati delle frasi e allora proprio per questo appunto dopo questo giro un po' largo tornerò a uno dei temi del mio lavoro che è appunto la grammatica valenziale come proposta appunto di modo di riflettere sulla lingua più visibile innanzitutto e quindi che coinvolge una dimensione sensoriale importante e eventualmente anche l'animazione di grafici quindi anche qui la motivazione e l'attenzione sono più più deste e che ha anche appunto l'altro pregio di sfruttare le intuizioni che almeno chi parla l'italiano come madrelingua può avere sulla propria lingua almeno se conosce un vocabolario di base e vedremo che nella grammatica valenziale si inizia a ragionare per esempio sul significato di verbi anche il significato molto comune verbi molto diffusi che quindi fanno parte del vocabolario fondamentale bene qualche questione appunto che rimane adesso sullo sfondo perché non posso non posso trattare tutte ma che mi piacerebbe così far passare anche che eventualmente va per un dibattito cioè l'italiano insegnato a scuola certo deve essere un italiano di livello alto su questo io sono sono perfettamente d'accordo ma è un italiano spontaneo o ha ancora quei tratti di artificiosità che a volte sono stati riconosciuti nel cosiddetto italiano scolastico cioè l'italiano dei temi quello per cui si tende per esempio a sfuggire dai verbi di significato generale come andare per sostituire un più pretenzioso recarsi e poi l'italiano comunque che viene promosso a scuola è un italiano che è poi adatto a tutte le situazioni comunicative insegnare un buon italiano vuol dire insegnare una lingua che è sempre monolitica e comunque tendenzialmente lontana dal parlato e appunto questo l'abbiamo già detto cioè insegnare un italiano che sia più flessibile quindi anche più aperto alla dimensione della variazione vuol dire necessariamente abbassare il livello e soprattutto in che modo il concetto di accoglienza accessibilità inclusione comunque lo vogliamo chiamare ci obbliga a ripensare le abilità linguistiche solo veramente solo un cenno perché questo sarebbe il tema di un'altra lezione cioè quale italiano in classe soprattutto in relazione al concetto di errore perché è nella correzione che emergono anche indirettamente le idee le idee di lingua che o di buona lingua che l'insegnante ha e che spesso naturalmente come Luca Sirani ci ha insegnato si sono formate cioè noi ci siamo formati queste idee proprio a scuola e quindi inevitabilmente tendiamo un po' a correggere quello che a noi è stato corretto e naturalmente l'errore scolastico per eccellenza spesso è appunto la ripetizione su questo se volete appunto avrei voluto avere appunto il tempo perché era un piccolo sondaggio ma lo potremmo fare anche appunto poi dal vivo nello spazio della discussione e quindi non sempre nella didattica del italiano si tiene presente che in ogni classe c'è una sorta di ecosistema linguistico sono presenti più varietà possono essere presenti più varietà anche regionali di italiano e comunque sono presenti anche altre lingue anche quando non vengono parlate ci possono essere diverse varietà di italiano quindi registri più anche più e meno sostenuti e naturalmente anche diversi livelli di conoscenza dell'italiano quindi anche come insegnante ci troviamo di fronte a fenomeni diversi innanzitutto a seconda della classe in cui insegniamo che si tratti di scuola primaria o scuola secondaria di prima e di secondo grado c'è anche diciamo un italiano a diversi livelli proprio di di sviluppo perché naturalmente la nostra conoscenza dell'italiano può sempre può sempre migliorare un po' come quella delle lingue straniere e poi ci si trova anche di fronte ad aspetti più complessi come appunto le fasi del silenzio nei mani arrivati la difficoltà di alcuni BES di seguire attività pensate diciamo per una per studenti con bisogni educativi speciali oppure i fenomeni di interlingua cioè queste zone di sovrapposizione tra la lingua materna e la lingua italiana come lingua di scolarizzazione che producono degli errori che però andrebbero riconosciuti in realtà come fase intermedia di una di una tappa di apprendimento tutta questa complessità questa ricchezza che però è anche spesso difficile da gestire per l'insegnante rende davvero oggi la sfida dell'insegnamento dell'italiano qualcosa di davvero difficile io ho una grandissima ammirazione per gli insegnanti perché quando entro in una classe vedo la grandissima complessità che si trovano a dover affrontare certo ci sono degli strumenti che oggi ci aiutano ci sono per esempio dei programmi che calcano che calcolano la leggibilità di un testo cioè attraverso appunto delle misure statistiche ci fanno capire se il testo è scritto in un link italiano accessibile nel senso che le parole sono per lo più quelle del vocabolario fondamentale dell'italiano le frasi non sono particolarmente lunghe non hanno molti gradi di subordinazione e così via poi ci sono anche invece degli strumenti che lavorano sulla comprensibilità ecco quindi cercano di farci riconoscere una pagina chiara rispetto a una pagina oscura non solo perché è diciamo formulata in un italiano come quello della rivista Due Parole che appunto era stata un'idea di De Mauro che prima avete visto nella slide precedente ma perché vedete già in questo testo ci sono dei caratteri un'interlinea ad alta leggibilità come si dice e poi vedete prima del testo vengono già presentate le possibili difficoltà nel testo ci sono alcune parole che forse non conosci te le spieghiamo subito così è più facile capire ecco queste sono piccole strategie vedete che c'è anche un verbo tritare tritare vuol dire tagliare a pezzi molto piccoli quindi poi le troviamo qui il robot trita la carne affetta i pomodori e i cetriolini prepara le salse cuoce gli hamburger e imbottisce i panini è un esempio che mi è sembrato interessante perché poi lo potremmo anche riutilizzare per per l'analisi valenziale e poi sapete che ci sono anche degli ausili ancora più diciamo basati su codici visivi che cercano proprio di tradurre i simboli quei simboli che sono le parole in icone quindi in immagini che in qualche modo rimandano alla realtà e quindi agevolano chi accede con difficoltà al al linguaggio appunto verbale nella sua trascrizione grafica ed è interessante vedere vi ho messo queste immagini per vedere come sono rappresentati i verbi perché certo farfalla va bene bambino è molto interessante io trovo vedere come nella in questa che viene chiamata c a a con comunicazione aumentativa alternativa vengono appunto vedete disse c'è una bocca con un fumetto e poi c'è una freccia che guarda indietro perché nelle nostre lingue occidentali per noi il passato è dietro e invece il futuro è davanti chiedo scusa del contributo del mio cane alla lezione vedete arriva tornare a casa vissero faccio ancora dire dice in questo caso non c'è l'indicazione del tempo c'è vola riapre prova eccetera quindi vedete e poi la complessità raggiunge anche livelli ancora più maggiori quando abbiamo a che fare con parole grammaticali vedete qui c'è il pronome relativo e necessariamente bisogna inserire un e vedete si risolve con l'operatore logico più questo spesso capita anche nelle ricerche che facciamo ma perché vedete c'è un simbolo di fatto ci sono due elementi immagino che qui si faccia riferimento al fatto che il pronome relativo si aggancia immediatamente a un antecedente quindi vedremo che nella grammatica valenziale poi le frasi relative sono proprio pensate come dei circostanti degli elementi che espandono un nome al quale si agganciano per ampliare o comunque per fornirci delle informazioni utili per l'identificazione del referente bene però quello su cui volevo riflettere con voi è il modo in cui possiamo rendere più accogliente la riflessione sulle strutture della lingua più accogliente e anche più trasversale perché appunto il modello di cui vi parlerò brevemente avrete già ricevuto una piccola sorta di guida con i concetti essenziali della grammatica valenziale oggi appunto li ripercorriamo alcuni insieme e bene in questo modello ci si sforza come vi dicevo di rendere visibili le strutture ma soprattutto di partire dall'individuazione delle categorie che sono presenti in tutte le lingue e cioè il nome e il verbo che sono quelle che poi formano l'ossatura della frase e la frase non è il punto di arrivo dell'analisi ma il punto di partenza perché come diceva Lucien Tenier utilizzando una metafora che trovo molto efficace Lucien Tenier è stato un linguista della prima metà del secolo scorso francese uno strutturalista quindi era abituato allievo di Meillet era abituato a lavorare sulla lingua concepita sì come un insieme di elementi tra i quali si stabilivano delle relazioni che erano però spesso relazioni di opposizione o quindi le famose relazioni paradigmatiche quindi io utilizzo una parola ma avrei potuto utilizzarne anche un'altra dico mettere ma potrei anche dire buttare il pesce nell'acqua e poi dico appunto buttare il pesce e quindi utilizzo dopo il verbo buttare un nome preceduto da un determinante eccetera ma quello che Tenier capisce è che quello che comanda no quello che permette di accedere al significato è la comprensione della struttura la struttura che non è visibile a occhio nudo ma è nascosta dalla linea appunto da questa dimensione lineare della frase perché la struttura implica qualcosa di gerarchico vuol dire che c'è qualcuno che comanda e qualcuno che è subordinato e allora già con Tenier che tra l'altro guardava anche la filologia classica e in effetti utilizza degli schemi dei grafici che sono fatti ad albero rovesciato proprio come quelli che si utilizzano in filologia gli stemma codicum ebbene ve li faccio vedere subito perché questo appunto è uno degli degli stemmi che utilizzava Tenier il verbo è lassù è l'elemento che è più in alto nella struttura quindi in qualche modo c'è l'idea appunto del verbo ci sono varie metafore è un libro ricchissimo di metafore che hanno proprio un valore euristico ci permettono di vedere la lingua attraverso concetti che sono mutuati da altre scienze in particolare la chimica che negli anni trenta del secolo scorso era un po' la regina delle scienze e quindi il verbo vedete è un po' l'elemento propulsore della frase prima di Tenier la frase era considerata una catena un ancienment dice una concatenazione e del resto anche l'idea di sintassi ci dà l'idea di una combinazione spesso noi definiamo la frase come una combinazione di parole che ha un significato compiuto certo c'è questa dimensione della concatenazione ma il modo in cui noi interpretiamo la frase non è dato semplicemente dal fatto di mettere una dopo l'altra le parole eventualmente accordandole dal punto di vista morfologico ma è legato soprattutto dai rapporti di dipendenza che in primo luogo il verbo imprime come se fosse una sorta di movimento iniziale di abbrivo e che poi arriva fino alle singole unità lessicali quindi questa frase è il mio vecchio amico canta questa canzone molto bella no? quindi canta c'è qualcuno che canta chi è che canta? l'amico il mio vecchio amico e poi canta che cosa appunto canta una canzone poi la canzone è questa no? canzone molto carina e appunto Giorgio Grafi uno storico della della linguistica individua proprio in questo elemento la grande la grande rottura di Ettenier più che nell'utilizzo della metafora della Valenza che era una metafora che senz'altro lui contribuisce a diffondere ma che era già utilizzata dai logici fin dalla fine dell'ottocento proprio per descrivere la struttura della proposizione cioè della frase per analogia con la composizione dei delle delle molecole a partire da atomi che hanno una certa valenza quindi la valenza è una proprietà intrinseca ai singoli elementi quindi l'idrogeno e l'ossigeno hanno una loro valenza per entrare in combinazione e formare una molecola di acqua devono appunto mettere a disposizione una certa serie di elettroni e ecco così come vedete nella in chimica ci sono queste formule H2O così vedremo nella grammatica valenziale ci sono delle formule di valenza e in un certo senso si utilizzano anche dei simboli che sono simili quindi queste sfere di colore diverso e poi i legami quindi questi bracci Tenier diceva anche la frase il verbo è un atomo uncinato un atomo che tira fuori degli uncini per agganciare a sé che cosa dei nomi quindi nome e verbo vi dicevo formano un po' lo statura della frase il verbo è quello che comanda che chiama a sé tanti nomi quanti sono quelli di cui ha bisogno per saturare la propria valenza cioè per riempire il proprio significato e formare una frase di appunto di senso compiuto forse appunto qualcuno di voi ha già un po' di dimestichezza con i concetti della grammatica valenziale che è vero sono legati soprattutto alla diffusione che Neier ha fatto attraverso le sue grammatiche scolastiche fin dall'inizio degli anni 90 Francesco Salvatini che vedete appunto qui ritratto ma oggi in particolare dopo la reedizione delle sue grammatiche nel 2011 e 2013 grammatiche per la scuola secondaria ha avuto un nuovo slancio e quindi come spesso accade anche per le mode diciamo editoriali ora trova spazio un po' in tutti quanti i libri perfino nella grammatica scolastica scolastica del Sensini che rimane una delle più adottate anche se fortunatamente è stata superata nelle classifiche almeno in Emilia Romagna dalla grammatica di Luca Serialni e collaboratori ebbene anche nel Sensini si trovano alcune paginette dedicate alla grammatica valenziale quindi spesso anche gli insegnanti si chiedono che cosa sarà o sarà utile certo se come nel Sensini parlo di Sensini perché sapete Sensini in realtà non è uno pseudonimo e dietro questa grammatica c'è in realtà oggi un'equipe redazionale quindi è chiaro che si va un po' verso quello che sembra tirare di più il pubblico dell'insegnante e allora se in un libro che mantiene completamente il suo impianto trovo magari nelle pagine che riguardano l'analisi logica un inserto che in quattro pagine cerca di spiegarmi che cosa è la grammatica valenziale ci ho provato anch'io nell'inserto che ho dato da distribuire ma ecco se tutto il resto poi rimane così com'era cioè se la grammatica va dal piccolo al grande quindi non parte dalla frase ma parte dalla singola unità addirittura dal suono dalla pronuncia dall'ortografia per arrivare al testo e se quando si propone l'analisi della frase alla fine non si riesce a rinunciare a quella che è stata definita la selva dei complimenti il carnevale dei complimenti e quindi si arriva all'incarne fino a 40 beh allora la grammatica valenziale è solo quella spolverata di novità che ci fa sentire più aggiornati ma non rimetti in alcun modo in discussione non solo l'idea che noi abbiamo di grammatica ma il modo in cui noi pensiamo di poter appunto agevolare l'accesso alla lingua tramite la grammatica e quindi la riflessione linguistica perché nella nostra tradizione la grammatica c'è sempre stata l'idea che la grammatica potesse portare che il metodo della riflessione grammaticale potesse riportare una migliore conoscenza della lingua oggi sappiamo che non porta a un miglioramento delle competenze non è il fatto di fare l'analisi grammaticale non ci porta immediatamente a parlare scrivere meglio ma ci dà gli strumenti innanzitutto per autocorreggerci e poi almeno per esempio il modello valenziale ci dà gli strumenti per poter controllare le frasi la completezza delle frasi l'adeguatezza nella scelta delle preposizioni sono tutti temi che diventano elementi di fragilità sia negli apprendenti dell'italiano sia nei nostri studenti quando li vediamo a volte arrivare all'università e appunto scrivere con un italiano che è sempre meno controllato allora qui vi ho vi ho riportato appunto la la frase di Tenier ma non insisterò molto su questo su questo modello volevo però farvi appunto fare una una riflessione a partire da da queste immagini proprio perché poi volevo ritornare all'idea del del mazzo di fiori allora vedo intanto che sono dunque le tre e mezza avevamo concordato che la lezione sarebbe durata un'ora e un quarto chiedo chiedo conferma va bene comunque mi interrompete quando ritenete che che io stia strabordando perché volevo lasciare spazio anche alle vostre domande allora vedete qui a proposito appunto di nomi e verbi di solito nella riflessione sulle parti del discorso che come sapete nella nostra tradizione grammaticale precede la riflessione sulla struttura della frase si parte dal nome e ritengo che questo sia anche sensato perché i nomi in qualche modo sono sono più facili ecco da riconoscere innanzitutto perché ci sono i nomi propri e poi perché spesso indicano realtà quindi hanno al di là del significato un referente quindi si riferiscono ad oggetti che nella realtà noi possiamo vedere nominare rappresentare però ecco i nomi isolatamente non formano una frase qui vedete due referenti un vaso e un rametto di foglie e poi vedete nella terza immagine qualcosa che è successo ecco Tenier definiva il significato della frase come un processo processo diceva anche nella frase succede qualcosa perché noi formiamo delle frasi perché vogliamo non vogliamo semplicemente mostrare a dito degli oggetti ma perché vogliamo far capire che è successo qualcosa e allora abbiamo bisogno di una parola che dica anche il tempo com'è il verbo ma soprattutto il verbo prima ancora di dire il tempo mette in relazione due nomi e ci fa capire in che modo gli oggetti sono entrati in relazione tra di loro e adesso come definireste se dovessimo descrivere queste immagini questo è un vaso poi possiamo dire un vaso di cristallo un vaso azzurro di vetro soffiato non so questo è un rametto di foglie finte di foglie verdi non so in ogni caso quando arriviamo a questa scena qui abbiamo come la definireste potete aprire il microfono mi fa piacere sentire le vostre voci allora possiamo scegliere una frase nominale quindi una didascalia un ramo di fiori in un vaso però vedete che i due elementi che erano singolarmente presi adesso sono inseriti in una scena c'è anche uno sfondo quindi questo vaso è stato anche collocato sul ripiano quindi sembra di essere vicini al davanzale di una finestra ma soprattutto per arrivare a questo risultato c'è stato evidentemente un intervento umano c'è stato qualcuno che con le mani ha preso quel rametto e l'ha infilato nel vetro quindi se noi volessimo descrivere quello che è successo quindi in questo senso processo quello che è accaduto dovremmo ricorrere a una frase quindi qualcuno ha messo quel rametto dentro il il vaso io spesso propongo di partire anche da immagini perché appunto è un modo sicuramente più accessibile ma è un modo che ci fa capire come la grammatica sia innanzitutto uno strumento appunto di riflessione su quello che facciamo e sul modo in cui anche il nostro cervello perché ci sono poi anche evidenze neuroscientifiche del del modello legate proprio alla forte pregnanza dei verbi i nomi hanno un carico informativo importante ma i verbi fanno un lavoro molto più impegnativo dal punto di vista cerebrale ecco appunto come il cervello riesca a costruire queste espressioni linguistiche che veicolano un significato preciso immediatamente decodificabile da chi le riceve eppure potremmo anche sostituirle con delle immagini che in questo caso vedete comprendono la presenza umana il vedere nella prima immagine delle mani delle mani appunto circondano il vaso ci fa capire che qualcuno ha messo dei fiori nel vaso nell'altra immagine abbiamo in qualche modo la scena precedente questi sono fiori veri sono fiori recisi e quindi c'è qualcuno che si è preoccupato di appunto riciderli e prepararli eventualmente in un mazzo in un mazzo perché fossero poi disposti in un mazzo sono tutte scene che noi possiamo descrivere con frasi e in questo caso bisognerà individuare il verbo legato in questo caso un verbo d'azione legato appunto all'azione che le mani compiono vi ho inserito l'immagine a destra perché in questa immagine voi in realtà vedete anche lo strumento cioè il fiore viene reciso con una forbice con una cesoia e ci sono anche degli elementi di contorno quindi in realtà c'è cioè si vede che l'obiettivo è non quello appunto di togliere il il fiore dalla appunto dalla dalla pianta ma di recidere lo stelo in modo che formi un un mazzo quindi noi potremmo descrivere questa scena con una frase molto ricca addirittura con un piccolo testo ma possiamo anche limitarci all'essenziale e qual è l'essenziale l'essenziale è l'azione e i protagonisti quindi qui abbiamo quindi in questa scena qui è un po' più semplice c'è la persona che compie l'azione e poi ci sono dei fiori e c'è un vaso quindi c'è qualcuno che ha messo i fiori nel vaso ha sistemato ha disposto allora vedete riflettere su queste immagini ci permette di lavorare anche sull'ampliamento lessicale e quindi come vi dicevo valutare i livelli anche di competenza dell'italiano che sono presenti nella classe e di riflettere sulle diverse possibilità che differenza c'è tra mettere i fiori e gli altri i altri i altri le altre opzioni possibili in questo caso abbiamo sempre abbiamo invece appunto il fiore che viene addirittura il gambo del fiore che viene tagliato reciso accorciato e ci si può chiedere se sia necessario inserire nella descrizione della scena lo strumento in cui con il quale viene compiuta l'azione è una riflessione interessante perché spesso quando vedrete anche nell'esercitazione quando lavoriamo con la grammatica valenziale uno degli elementi di complessità sta proprio nel decidere che cosa è necessario e che cosa è facoltativo cioè quello che è costitutivo dell'ossatura della frase è quello che invece può essere tacciuto allora qui avete sempre attraverso le immagini la rapida illustrazione della differenza che c'è tra i cosiddetti verbi impersonali o zerovalenti che da soli riescono a formare una frase sono i verbi meteorologici piove nevica in questo caso albeggia ma potremmo anche dire cade la neve scende la pioggia il sole sorge quindi abbiamo sempre la possibilità di scegliere e quindi lavorare in questo modo sulla riflessione grammaticale significa anche non solo impratichirsi delle regole quindi possiamo dire che in italiano i verbi meteorologici non prendono il soggetto e non hanno neppure bisogno come invece accade in altre lingue di un pronome soggetto obbligatorio ma possiamo anche dire che la stessa scena può essere descritta per esempio da un uomo o da un verbo io anche posso dire pioggia neve che differenza c'è tra pioggia e piove appunto il verbo la scena è la stessa è un verbo di evento non è un verbo di azione ma nel verbo naturalmente noi possiamo inserire la dimensione del tempo se diciamo il sole sorge rispetto ad alveggia abbiamo inserito sì un soggetto ma stiamo comunque descrivendo lo stesso fenomeno meteorologico visto dal punto di vista in questo caso dell'astro coinvolto e qui invece abbiamo dei verbi in cui ci sono delle azioni più o meno volontarie e a seconda appunto del numero di personaggi coinvolti qui abbiamo un protagonista una madiglia qui abbiamo due personaggi uno dei quali accarezza l'altro qui abbiamo due mani metodemicamente sanno per le persone e un gesto che è un dono un'offerta un regalo no? c'è un adulto qualcuno che offre porge da qualcosa in questo caso una piantina a un bambino quindi i verbi di dare sono come anche i verbi di dire sono verbi che spesso si costruiscono tipicamente si costruiscono con tre elementi qualcuno da qualcosa a qualcuno qualcuno dice qualcosa a qualcuno i verbi come abbracciare accarezzare sono appunto oltre che verbi di affezione verbi anche bivalenti si costruiscono con due elementi e invece tutti quei verbi che riguardano azioni che ne facciamo e che coinvolgono con livelli di consapevolezza maggiori o minori semplicemente noi stessi svegliarsi addormentarsi in questo caso annoiarsi sbadigliare ecco si limitano al solo soggetto allora adesso vado un po' più rapidamente perché scusate allora ritorno alla presentazione perché volevo farvi vedere andare subito al ai grafici e alle sì perché direi che ancora dieci minuti siete d'accordo così poi lasciamo spazio ecco allora bene allora dicevamo che piovere è un verbo tipicamente zero valente cioè un verbo meteorologico e così viene classificato perché come ci sono delle formule chimiche ci sono anche le vedremo subito dopo delle formule di valenza ma piovere conosci anche degli usi metaforici cioè piovere nel senso di cadere in grande abbondanza quindi riferito non necessariamente ad agenti atmosferici ma nel caso di questo film vedete delle polpette ma possiamo anche dire piovono insulti piovono tasse allora quando noi calzifichiamo i verbi facciamo riferimento al significato letterale e vedremo anche al significato di base quindi quello che si considera più più frequente prototipico il badigliare è considerato un verbo monovalente che vuol dire che ha un argomento il soggetto nella grammatica tradizionale si parte il soggetto è il punto di partenza dell'analisi invece vedete nella grammatica valenziale il soggetto è un argomento tra gli altri che vuol dire argomento elemento che è in qualche modo necessario per completare il significato del verbo ma il soggetto nel caso per esempio di verbi come lavare o regalare è un argomento al pari degli altri cioè ci vuole il soggetto ma ci vuole anche un altro argomento o altri due argomenti lavare qualcosa o qualcuno regalare qualcosa a qualcuno e addirittura ci sono anche dei verbi pochi sono per più verbi composti con il prefisso trans comunque verbi di spostamento che richiedono tre elementi chi nel caso sposta trasferisce traduce qualcosa da un luogo a un altro reale o metaforico quindi questo è anche un altro dubbio che spesso si viene quando si lavora appunto sulla valenza sì certo devo partire dal significato ma quale significato visto che i verbi come tutte le parole in particolare quelli che appartengono a vocabolario fondamentale sono polisemici quindi possono avere più significati ma la valenza appunto ci permette proprio di fare ordine spesso tra i significati di un di un verbo anche questi sono anche quando questi sono molti molto vicini tra di loro perché vedete qui quando io dico mio figlio non legge voi cosa capirete beh dipende un po' dall'età di mio figlio se ha meno di sei anni va bene non sa ancora leggere ma se ha quindici anni beh allora voi capirete che non è un lettore se dico che legge i fumetti vuol dire che questo è diciamo il tipo di libro che preferisce leggere quando dico legge una fiaba sua sorella sto in realtà dicendo che questo leggere è una sorta di porgere attraverso la voce e quindi rientra un po' nella nello schema dei verbi di dire quindi vedete siamo sempre all'interno dei diversi significati di uno stesso verbo con schemi di valenza diversi allora queste sono appunto le cosiddette formule di valenza che si trovano in un dizionario di grande diffusione semplicemente perché è gratuitamente anche accessibile che è il Sabatini Coletti qui vedete l'edizione scolastica l'edizione del 2012 che è più aggiornata di quella che ho trovato l'Anch risale al 2008 però è comunque interessante accedere gratuitamente e liberamente cioè senza doversi autenticare a questo dizionario così come è utile per altri versi e utilizzare il dizionario internazionale di Tullio De Mauro proprio perché vi fa vedere per ogni verbo le costruzioni possibili e quindi le frasi possibili un po' come quando traducendo dal latino andavamo a cercare appunto nella voce verbale la possibile costruzione per capire poi quali elementi avremmo dovuto rintracciare cioè un soggetto al nominativo un oggetto all'accusativo italiano una lingua che ha perso i casi ma naturalmente i verbi a parità di significato mantengono le loro reggenze quindi la capacità di reggere appunto uno o più elementi per costruire delle scene questo sarebbe appunto un altro argomento ancora nel passaggio dal latino all'italiano ci sono verbi che hanno modificato il loro schema di valenza o che hanno acquistato nuovi significati per cui hanno anche acquisito nuovi schemi di valenza ma fondamentalmente ogni verbo appunto in base al proprio significato mantiene questa capacità di attrazione davvero che è finalizzata poi alla costruzione di frasi in piccolo e poi in grande anche di discorsi allora questi sono i grafici i grafici radiali appunto che troverete nelle attività proposte e vi dicevo sono una alternativa che Sabatini ha proposto rispetto a quegli schemi ad albero che invece sono stati molto utilizzati in un altro filone della grammatica cioè la grammatica generativa qui abbiamo degli elementi che sono più vedete facilmente identificabili se un precedente c'è stato nella diciamo grammaticografia italiana in realtà o meglio nella diattica dell'italiano lo possiamo rintracciare in Maria Montessori che utilizzava tuttora nelle scuole montessoriane si utilizzano dei simboli per le diverse parti del discorso e anche dei colori e non a caso il verbo è associato al rosso perché diceva Montessori il verbo è l'elemento propulsore è un po' come il sole che fornisce l'energia all'intero sistema solare e vedete che questa idea anche degli ovali concentri richiama anche un po' la metafora del sistema solare il verbo è al centro quelle rosso sono le valenze i legami e poi avete gli elementi il soggetto che comunque gli argomenti sono in azzurro il soggetto è in una tonalità più scura perché il soggetto è un argomento privilegiato è quello che impone al verbo l'accordo poi vedete questa è una frase al passivo quindi nella quale abbiamo agito sulla prospettiva quindi questo è il secondo argomento ed è retto da una preposizione nella grammatica valenziale tutti quei complementi che nella grammatica tradizionale sono elencati e distinti in base alla nozione che veicolano al significato nella grammatica valenziale sono suddivisi fondamentalmente in due gruppi complementi necessari e complementi non necessari e poi complementi diretti e complementi indiretti quelli diretti sono collegati direttamente sono fondamentalmente l'oggetto diretto oppure i complementi di peso misura con alcuni verbi alcune espressioni temporali sempre con alcuni verbi particolari per il resto comunque i complementi sono introdotti da preposizioni un altro aspetto interessante e poi vedete che ci sono tutti gli elementi circostanti che sono gli elementi che espandono dei costituenti del nucleo ecco nucleo è un concetto anche questo tipico ripreso dalla chimica ci si riferisce appunto alla cosiddetta frase nucleare o frase minima questa è una dicitura che circola molto nella scuola ma spesso riferita a un altro concetto cioè verbo più predicato intendendo per predicato il verbo nella grammatica valenziana il concetto di predicato anche questo lo vedrete nei materiali che che vi ho dato è qualcosa che comprende non solo il verbo ma anche ogni eventuale argomento retto dal verbo quindi il predicato se deve essere davvero ciò che predica qualcosa sul soggetto è necessario che sia completato da un oggetto diretto indiretto se lo prevede quindi elementi che ampliano la frase agganciandosi direttamente è un elemento del nucleo sono i circostanti e qui noi potremmo anche trovare la famosa frase relativa che vedevamo prima quindi possiamo trovare aggettivi nomi le apposizioni possiamo anche trovare frasi relative che è un noto e poi intorno più libere ci sono le espansioni che sono tipicamente delle circostanze di tempo di luogo di causa ciascuno di questi elementi e questo direi che è il bello anche del modello valenziale la sua possibilità di manipolare quindi non solo vedere ma di manipolare può essere trasformato in una frase perché il soggetto e l'oggetto per esempio possono diventare frasi completive soggettive oggettive negli anni 80 può diventare una frase temporale vi dicevo una posizione può diventare una frase relativa quindi è un modo per mettere ordine non solo nell'analisi della frase ma anche nell'analisi del periodo distinguendo tra le frasi soggettive oggettive e interrogative indirette che sono completive cioè sono richieste dal verbo per completare il suo significato le frasi relative che possono essere suddivise in restrittive e attributive e poi le frasi invece le subordinate propriamente dette causali e finali queste si distinte in base al loro significato perché nel momento in cui vengono aggiunte al al nucleo di frase contribuiscono all'ampliamento dell'informazione proprio grazie al proprio contenuto bene poi appunto nel corso dell'esercitazione cercherete di impratichirvi con con questi grafici anche di una versione in powerpoint che è modificabile cioè avete lo scheletro e poi potete in qualche modo riprodurlo copiando un elemento incollandolo da un'altra parte e poi sempre in esercitazioni troverete anche questi schemi vuoti vedere uno schema vuoto e provare a riempirlo è un'attività particolarmente dal punto di vista appunto anche dell'attivazione delle risorse linguistiche molto interessante quindi è un modo per fare l'analisi pensando a una struttura che noi dobbiamo riempire e quindi vedrete che è un'attività interessante anche per chi non è madrelingua perché può fare comunque riferimento alla propria competenza innata di parlante in un'altra lingua per capire come si struttura una frase in vista della comunicazione di un evento ecco Tenier poi chiudo nel suo libro quello che avete visto all'inizio sintassi strutturale non ragionava solamente sulla lingua francese ragionava su più di 20 lingue tra cui quelle antiche latino greco lingue vive alcune diciamo indoeuropee ma anche lingue appartene molto lontane perfino il basco che è una lingua geograficamente vicina ma strutturalmente molto lontane ma in tutte riesce a ritrovare questa questa struttura quindi il nome il verbo le relazioni reciproche la possibilità di arricchire sia il nome sia il verbo sia l'intera frase con elementi aggiuntivi ma l'importante è che vengano appunto che il nucleo sia forte e coeso ferma restando la possibilità in alcuni casi di sottintendere alcuni elementi soprattutto in contesti comunicativi nei quali anche per ragioni di economia linguistica non non insistiamo appunto nell'esplicitare quando io dico per esempio parcheggio e arrivo è evidente che sto parcheggiando il mio mezzo di locomozione abituale può essere la macchina la bicicletta il motorino e arrivo arriverò nel luogo in cui mi aspetta la persona che appunto alla quale mi sto mi sto rivolgendo appunto arrivo è il messaggio che prima ho inviato per annunciare che che mi stavo che mi stavo collegando direi di non andare oltre per questa fase e appunto visto che mi sono riagganciata all'inizio mi scuso ancora per essere arrivata con ritardo e con ritardo appunto cristiana appunto è arrivata e quindi è arrivata nella riunione con ritardo ecco questo con ritardo è una colpevole è una colpevole espansione che che aggiungo alla mia frase allora intanto grazie e rimango a disposizione per domande grazie a tutti Grazie a tutti